due giorni fa ho pubblicato un video molto interessante su questo case della dock case il dock case pocket e ho consigliato questa memoria la memoria arriva non allocata ma non solo anche non formattata probabilmente quando la colleghi il dock case la leggerà però probabilmente non riuscirai a scrivere niente non vedrai il disco all'interno perché non esiste oggi ti faccio vedere come allocare la memoria e formattarla in modo molto semplice apro quindi il dock case infilo dentro la memoria eccola qui schiacciata e poi la riassicuro con la vite in dotazione attenzione a non confondere le due viti quella più grossa da questa parte è quella della memoria quindi la metto dentro richiudo il case e lo collego al mio computer come vedi è stata letta correttamente ma se vado sul mio pc non la trovo quindi clicco su start e scrivo dischi scelgo crea formatta partizioni del disco rigido e molto probabilmente in questa fase ti chiederà come creare la partizione la partizione che devi creare non è mbr ma e gpt quindi una volta fatto molto semplice devo allocare la memoria quindi nuovo volume semplice vado avanti gli dico se voglio una sola partizione con il massimo della memoria allora lascio qua il massimo altrimenti potrei anche creare due o tre partizioni non vedo il perché sinceramente quindi vado avanti e gli do non so una lettera h o di quello che è per il file system non scelgo ntfs perché non mi serve per avviare windows o altro expert e se vuoi poi scrivere qui il nome che vuoi di questa memoria lascio qui formattazione veloce vado avanti e adesso ce l'ho la memoria come vedi compare e avendo acquistato un terabyte abbiamo 931 gigabyte disponibili spero di esserti stato d'aiuto con questo video come al solito nella descrizione del video trovi i link e coupon sconto se dovesse interessarti anche il video recensione di questa magnifica invenzione nel frattempo ti saluto e ciao alla prossima